Buongiorno a tutti ragazzi, sono sempre io Mattia99 mentre stiamo tornando a casa mia scusate ragazzi che ho visto la chiamata di Zia Laura dal telefono di Papone perché ci ha chiamato a mezzogiorno oggi faremo la recensione di un fumetto Le Origini Marvel volume 1 che contiene i Fantastici 4 Hulk, l'Uomo Ragno e gli Incomparabili Umani questo fumetto l'ho comprato dal mercatino di Monterotondo a settembre i disegni sono molto belli questi sono i disegni degli anni 70 che lo provo di sì però questo fumetto è molto bello diciamo ok ragazzi questo video è finito ci vediamo al prossimo video ciao